Perché non gode la mia stima e la mia simpatia? Sotto nessun punto di vista. Qualcuno l'ha criticato perché si è aggiustato i pantaloni, altri l'hanno criticato perché ieri... Fa parte della sua personalità e che arriva con le mani così, a fianco di Napolitano, non fa capire. Mancanza di buon senso. Ma no, Adolfo, forse... non so, si è aggiustato la giacca o qualcosa... No, no, si è aggiustato i pantaloni, non la giacca. C'è pure la cravatta che è attraverso così. La cravatta è qua, invece di essere dritta. Di tutto che non mi piace a me quella persona, di tutto. Sono contro. Non vedo l'ora che va via. E' registro la vostra. Come mai? Hai visto ieri sera a Ballarò? Litigavano fra lui e Tosso. Sono tutt'uno. E l'altro gli ha detto, per favore, ma non litigate qua, sentivate, a casa vostra. Non essendo simpatico, meglio che non intervenga. Dovrebbe capirlo, visto che dovrebbe anche essere un po' intelligente. Altri l'hanno contestato perché si è aggiustato i pantaloni. E infatti, si tira su le mutande. E ora che... Ha molti limiti. Posso chiedere cos'è venuto a testimoniare oggi qua in Piazza Castello? È venuto a testimoniare l'appartenenza di una volta, io ero nell'arma dei carabinieri. Ho sentito un attaccamento all'esercito, io per dispetto all'esercito, dove ci sono stato tre anni. Cosa ne pensa dei fischi alla russa, al ministro alla russa? È un momento che, diciamo, critico anche per loro, con le dichiarazioni che sta facendo e, insomma, non è che sia molto lineare. E non rispetti poi proprio questa gente che è in giro, che rischia la vita in decisione. È un momento che, diciamo, critico anche per loro, con le dichiarazioni che sta facendo e, insomma, non è che sia molto l'esercito, dove ci sono stato tre anni e, insomma, non è che sia molto l'esercito, dove ci sono stato tre anni e, insomma. Grazie. 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 Grazie.